Musica Ma a tutti ragazzi sono sempre io E oggi siamo in un nuovo video E mi sembra logico Come avete visto dalle tendenze Ultimamente E' uscito un nuovo Trapper E qui mi preoccupo tantissimo perchè i Trapper Proprio sono le canzoni più belle del mondo E il Trapper in questione è Young Signorino Proprio a lui Quello che fa i testi belli Belli tra virgolette Non diciamo che proprio chissà che qualità hanno le sue canzoni Con i bassi sparati a mille Ma perchè vi voglio parlare di lui Non farò la classica reaction A un suo video A una sua canzone Come hanno fatto 3000 youtuber Quasi tutta youtube italia è piena di reaction Ma andremo a vedere Le meme fatte su di lui Lo so si dice meme Ma io dico meme perchè è più figo Ma lasciamo stare E iniziamo con la prima Allora c'è scritto A U A Le parole sono semplici E Young Signorino risponde con A U A U A U A Alfa alfabeto C'è le uniche due lettere che lui ha imparato Dall'alfabeto è A U Da cui capiamo tutto Prossima Allora questa è bella Perchè ci sta scritto Le coppie perfette Ok la pasta con il sugo La navigazione incognito con la rotazione dello schermo E chi se ne intende sa di cosa parlo E poi anche signorino con una corda Perchè la gente che lo ascolta si vuole suicidare E' inutile Si vuole proprio ammazzare Perchè le sue canzoni Non hanno fottutamente Senso Prossima Oddio questa è bella azzeccata Abbiamo Young Signorino che fa E poi sotto abbiamo Azzeccato Credo che stanno sulla stessa strada praticamente Perchè sembrano tutte e due fumati Il padre di Gianluca si vede che fuma Young Signorino non si sa ancora di che sostanza si fa Ma ho dei dubbi Prossima Ah questa si che è bella Abbiamo l'immagine di uno delle sue canzoni E c'è scritto quando ti senti inutile Pensa che ci sono i video del testo di Mwahahahaha Si veramente c'è chi ha fatto Il testo Non ho parole Non ho parole Cioè non ci bastava il video ufficiale della canzone Ma pure il testo Lasciamo stare queste cose E andiamo alla prossima Meme Bene Cod Codino Signor Signorino Oddio Che poi Young Signorino Vuol dire Giovane Signore Che non lo so il senso che ha Piano piano stiamo sfociando nel trash Tipo la prossima meme Dove abbiamo Abbiamo un killer che vuole ammazzare qualcuno E lui Fa il richiamo ovviamente Ma che buona E quello dietro il muro risponde Questa dolce droga Ma perché Perché Tipo al posto della sua faccia Dovono mettere Young Signorino Secondo me Prossima In questa meme Abbiamo la faccia di Young Signorino E c'è scritto Tutto al di finiscono coglione E niente Hanno ragione Bravo Chi è che non ha ragione Quando lo dice che è un coglione Perché Non c'è bisogno di spiegarlo Basta guardare i suoi video Per capirlo Prossima Questa è bella Perché C'è anche la Dark Polo Gang In questa meme Abbiamo una battaglia di Yu-Gi-Oh Lo sfidante Butta la carta E la Dark Polo Gang E come risponde lui Se non con la carta di Young Signorino E spazza via E vince Cioè vince con la carta più potente Young Signorino Non ci credo No Voglio una poop Su questa battaglia Con i trapper più trash della storia Lo voglio Prossima meme Ok Abbiamo la faccia di Young Signorino Tatuatissimo E c'è scritto E' pieno di scritte Non è un braccio ingiassato Ovviamente Da notare poi sui tatuaggi bellissimi Che non hanno fottutamente senso Ma dettagli Prossima Ok Qui abbiamo messo a confronto Young Signorino Con i neomelodici Napoletani E c'è scritto Nessuno fa più schifo Nessuno fa più schifo di Young Signorino Tranne i neomelodici Quelli fanno proprio schifo Non lo so chi fa più schifo Tra loro due Perché sono su quella strada Forse Young Signorino Si sta salvando Con l'ultima canzone Che ha fatto Forse Ma non è sicuro 100% I neomelodici Napoletani Non si salveranno mai Almeno loro fanno testi Con delle frasi Young Signorino Invece fa testi Con versi Non lo so Perché pubblico L'ha dato Per neonati Per animali Chi lo sa Lo scopriremo un giorno Queste erano le meme Su Young Signorino E da queste meme Fa capire molto Su di lui Va bene raga Concludo qua Questo video Se vi è piaciuto Lo scelto like Iscrivetevi al canale Mettete di pagina Pagina Facebook Tra i tenni Di descrizione Con altri social E iscrivetevi anche Nei commenti Cosa ne pensate Young Signorino E niente Noi ci vediamo In un prossimo video Bella a tutti raga Fumo 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 E rido Ha 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 De ride 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 Ha 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 Alfa 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 beto U ha 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 Rari 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 Rari